Diciamo verificare tutti gli step necessari per arrivare all'inizio dei lavori e verificare anche lo stato dei luoghi e lo stato delle procedure amministrative. Quindi è stato fatto un verbale per successivamente avere tutti i controlli delle necessarie autorizzazioni. I lavori inizieranno più o meno a settembre, con l'inizio dell'anno scolastico, per molestando le esigenze della gara? Sì, naturalmente c'è qualche piccolo ritardo che pensiamo di poter riassorbire facilmente. Il dirigente ha dato tutta la sua disponibilità e quindi il monitoraggio non può fare altro che poterci aiutare in qualche modo per arrivare alla conclusione rapida e positiva dei lavori. L'intervento ammonta circa 1 milione e 350 mila euro? I lavori a base e resta sono inferiori di poco al milionario.